Tumilello intanto benvenuto a Pescara, una grande opportunità no? Sì, ringrazio il Presidente che mi ha dato tanta fiducia in questi giorni, ci siamo sentiti quasi ogni giorno poi finalmente oggi è ufficiale che sono un nuovo aggiatore del Pescara e ripagherò la fiducia che mi ha dato oggi il Presidente Sei animato da proposi riscatto, è giusto dire così o no? Hai detto benissimo, è un'opportunità di riscatto per me, dopo quest'anno passato penso solo a far bene per la società e soprattutto per me stesso, per riscattarmi da quello che ho passato anni precedenti Ti conosciamo benissimo per quello che hai fatto nei giovani della Roma, poi sei stato molto sfortunato a Crotone però per farci conoscere ancora un po' meglio da chi è in visione dell'ascolto, quali sono le tue caratteristiche peculiari? Le mie caratteristiche principali sono la fisicità, il colpo di testa e l'attacco alla porta poi comunque non c'è bisogno di voi, lo dico io, sta a voi a vederlo nel prossimo mese oppure già da domani Nessuna promessa, insomma tanto impegno? Solo impegno, speriamo di regalare tante soddisfazioni sia alla società che ai tifosi, noi ci metteremo sicuramente il massimo Non ci hai pensato su due volte per accettare? No, ho accettato subito, ho parlato con gli agenti, con il presidente, ho accettato subito era la migliore squadra, la società dove poter riscattarsi comunque Salutiamo tutti i tifosi, insomma si aspettano tanto da te Sì, saranno sicuramente ripagati Un saluto ai tifosi del Pescara e Forza Pescara Sì, aspetta subito